lei è stellina la nostra canetta sta con noi da circa da circa diciamo quattro anni e mezzo non ha mai chiesto niente non ha mai voluto niente è venuta qua ai primi tempi che cercava da mangiare era una trovatella poi abbiamo andato a mangiare stella guarda verso la telecamera stellina qua e da quando vi ho dato a mangiare è sempre stata rimasta con noi e questo insomma molto carina affettuosa di qualcosa al pubblico stellina presentati non dice nulla vabbè non fa niente comunque qui quella qua vedete penso solo a mangiare stellina mangia beve fa la passeggiata soprattutto con mia moglie maria grazia e figli e niente c'è un viso delizioso vedete come tutti cani molto affettuosa e di razza meticcia e saluta stella è così la sera manina così ciao a tutti ciao e grazie di nuovo ciao anche da stella ciao ciao